C'è questo gravissimo problema economico e sociale di famiglie che vivono con questo lavoro e sono pure tante e quindi chiaramente c'è una fase di scoramento, di allarme per un problema che si spera che si risolve. Ovviamente manifestano questo malessere, ma è normale che sia così. Io penso che è un problema di grandissima importanza sia per il ruolo importante che loro svolgono a livello di difesa del territorio e anche di quello che possono svolgere con una programmazione seria anche come prevenzione del distesso, altre cose importanti che possono svolgere all'interno dei comuni per tante cose che i comuni con le notevoli crisi economiche che ci sono non possono più ottemperare. C'è da sedere, c'è da trovare immediatamente una soluzione economica e penso che già il 27 ci sarà la commissione bilancio che andrà a discutere questo problema e ci auguriamo che al più presto venga risolto.